nel cammino verso l'attuazione dell'agenda 2030. La crisi ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottooccupazione, nonché su scuola, università ed attività formativa. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione. Ancora di più davanti a questa situazione, l'attuazione dell'agenda 2030 è un'occasione irripetibile per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostro modello di sviluppo, prendendo atto dall'insostenibilità e dall'iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale. La crescita è tale solo se è sostenibile. Non possiamo e non dobbiamo misurarla solo con parametri legati al PIL. La transizione verso un modello sostenibile è l'unica via per garantire un benessere durevole ed equo alle prossime generazioni. Dobbiamo pertanto riconvertire il nostro sistema industriale e ricorrere a fonti di energia pulita e a basso costo. Passare da un'economia lineare a un'economia circolare che massimizzi l'utilizzo delle risorse esistenti, riducendo contemporaneamente la dipendenza dalle nuove materie prime e diminuendo così gli sprechi. Dobbiamo utilizzare tutte le potenzialità dell'innovazione tecnologica, ma in modo oculato, senza trascurare mai l'impronta ecologica.